Iniziamo il nuovo anno con la sesta puntata di storie dedicata all'azienda sanitaria locale 2, l'ASL Savonese. Nel corso della trasmissione non ci limiteremo agli aspetti sanitari ma vedremo un'importante tradizione locale, quella legata alle ceramiche di Albisola che sono conosciute a livello internazionale. Milena Milani ha definito Albisola come la piccola Atene in riva al mare. L'ASL Savonese è territorialmente divisa in quattro distretti, c'è un distretto di Savona, un distretto di Finale, un distretto della Val Bormida e un distretto al Benganese. All'interno di questi distretti vengono svolti servizi territoriali, lavorano quindi ambulatori specialistici, consultori, medici di medicina generale e abbiamo tutta una serie di servizi per i cittadini non ricoverati. Questi ambulatori sono tutti in collegamento con le sedi ospedaliere che sono, come si sa, due presidi ospedalieri a Savona, il presidio di Savona e Cairo Montenotte e il presidio di Pietraligure che comprende l'ospedale di Pietraligure e di Albenga. Quindi sostanzialmente ogni distretto ha un suo riferimento in ospedale. L'ASL è un'ASL che conta 280 mila abitanti circa con un impegno sanitario molto significativo sia per quello che riguarda i residenti sia per quello che riguarda ovviamente i turisti. Noi qui abbiamo una popolazione che durante l'estate diventa estremamente numerosa e quindi abbiamo la necessità di organizzare il lavoro non solo sulla parte ordinaria ma anche sulla parte straordinaria estiva che cerchiamo appunto di soddisfare. Abbiamo un turismo anche invernale che comprende persone di età avanzata, quindi è un turismo più che altro di anziani che anche questo un po' ci impegna rispetto a eventuali possibili ricoveri. Abbiamo un sistema particolare di assistenza sul territorio che abbiamo potuto organizzare grazie alla collaborazione dei medici di famiglia con i quali abbiamo stabilito questo tipo di organizzazione. I medici di famiglia mantengono i propri ambulatori in otto comuni aperti per 10 ore al giorno dalle 9 alle 19 per 7 giorni alla settimana. Durante questo periodo c'è la possibilità di accedere a questi ambulatori in maniera gratuita durante il periodo settimanale, mentre sabato e domenica abbiamo concordato un prezzo ufficiale che è di 25 euro, però c'è la possibilità dei cittadini di poter chiamare al telefono oppure anche presentarsi ed avere l'assistenza di uno dei medici che collaborano in questo sistema. Rappresenta la continuità assistenziale che cosa vuol dire? Vuol dire che questi medici garantiscono la presenza e l'apertura di almeno un ambulatorio per 10 ore al giorno di tutti i giorni e danno quindi una risposta continuativa sia ai residenti che a quelli fuori provincia, d'estate e d'inverno e durante Natale e tutte le feste. Gli obiettivi sono diversi. Il primo potrebbe essere quello di diminuire l'accesso improprio al pronto soccorso. In realtà questo dipende un pochino dalle condizioni perché abbiamo verificato che ambulatori particolarmente vicini al pronto soccorso in realtà sono di supporto, ma frequentemente l'accesso al pronto soccorso c'è. Mentre molto significativi sono i lavori del lavoro degli ambulatori che si trovano lontano dal pronto soccorso. Allora effettivamente c'è una partecipazione del cittadino a questi ambulatori che è significativa e quindi consente di alleggerire veramente il lavoro al pronto soccorso. Allora brevemente si può dire che il San Paolo nasce sul Priama nel 1513 sull'onda delle confraternite che si ispiravano a Vernazza e che avevano come modello l'ospedale Palmatone di Genova. Sul Priama è stata un'esperienza per certi versi breve e sfortunata perché ha coinciso con le demolizioni genovesi del 1540 per cui l'ospedale viene raso al suolo e dopo una decina d'anni viene ricostruito dalla sua compagnia nella località di Pozzo Vigneto, l'odierna via Ambro-Giaonzo a Savona. Alla metà dell'Ottocento cambia nuovamente sede per portarsi quella che è stata fino a non molti anni fa la sede di Piazza Giulio II che poi ha avuto dei rimaneggiamenti, ricostruzioni, sopraelevazioni e poi negli anni Sessanta a cominciare dalla dopo guerra i progetti poi dagli anni Sessanta, Settanta si è realizzata la sede dove adesso ci troviamo. Fare comunicazione in un'azienda sanitaria locale vuol dire a diversità delle altre amministrazioni dello Stato fare educazione sanitaria ed informazione sanitaria. Noi non siamo un ministero, un comune, una provincia. Noi siamo un'azienda complessa, estremamente complessa. Dare ai cittadini queste risposte vuol dire innanzitutto informarli correttamente, spiegare dove sono i servizi, facilitarli nell'uso dei servizi ed educarli affinché nella cultura della prevenzione si ammalino il meno possibile. Già nel 1987 un gruppo di medici e infermieri si sono visti e hanno detto ma perché non facciamo qualche cosa visto che ognuno poi uno balla, uno canta, uno suona eccetera. Hanno deciso di fare un gruppo, negli anni poi questo gruppo si è chiamato Medical Mystery Tour, parafrasando una canzone dei Beatles molto famosa che era Magical Mystery Tour, è diventato un po' l'inno questa canzone e da lì per alcuni anni fino al 99-2000 è andata avanti con spettacoli a volte anche creati da noi stessi, scritti e musicati da noi stessi, poi c'è stata una pausa e adesso questo è il quarto anno che abbiamo ripreso in mano la possibilità di fare questo spettacolo e gli abbiamo dato anche una veste un po' diversa, nel senso che questo spettacolo per noi è importante intanto perché così noi ci si avvicina un po' chi lavora in sanità, è importante perché cerchiamo di avvicinare la sanità alla cittadinanza, questo è molto importante, altro punto perché in quell'occasione ormai da 4 anni si fa la premiazione dei pensionati dell'anno precedente, questa è un'altra cosa importantissima perché insomma diamo merito a chi ha lavorato per tanto tempo nella nostra ASL e premiamo i pensionati non solo della ASL ma anche del comune di Savona e della provincia di Savona, infatti da 4 anni questo spettacolo diciamo che è gestito un po' da tutte e tre gli istituti, quindi comune, provincia e ASL e serve a questo. L'inizio risale agli anni 60, anni in cui il professor Mantello ha avuto l'incarico da professor Scalfi all'epoca primaria della chirurgia di questo ospedale di incaricarsi di tutto ciò che era il mondo della mano che all'epoca nessuno aveva assolutamente conosciuto e ha un terreno completamente inesplorato. Il professor Mantello all'epoca, iniziando dai più grandi maestri che all'epoca in Europa avevano iniziato a esplorare questo mondo così complicato, nel tempo ha costituito una scuola che è arrivata a raggiungere livelli di interesse nazionale già negli anni 70 e alla fine nel 1996 ha portato alla creazione di questo centro regionale che è stato uno dei primi in Italia e che ancora oggi è uno dei centri di riferimento nazionali e internazionali di questa chirurgia. I riconoscimenti più recenti sono quelli che la Federazione Europea di Chirurgia della Mano ci ha attribuito attestandoci come trauma center di livello europeo per tutta l'emergenza e la traumatologia della mano. Il nostro centro per come è strutturato adesso rasenta, abbiamo quasi 3.000 interventi all'anno. Interventi ovviamente divisi tra patologia di elezione e l'urgenza che ci occupa per circa 500 interventi all'anno. Il 30% dei nostri pazienti proviene da fuori regione. L'acceleratore lineare è la tecnologia più avanzata che oggi abbiamo per la cura dei tumori. Le macchine sono tra di loro simili anche se hanno delle diversità strutturali una delle altre. Però essenzialmente l'accelerazione dei raggi X con una certa energia, nel caso della macchina in oggetto, abbiamo due range di energia 6 e 18 megavolts o 7, le energie differenti per arrivare a profondità diverse nell'ambito corporeo. Quindi praticamente centrandoci con i laser, con tutte le manovre che sono state fatte in precedenza per individuare il focolaio, durante la seduta operatoria ci si mette nell'isocentro che è il centro del campo che dobbiamo irradiare e dopo di che parte l'erogazione di questo fascio di fotoni di raggi X di alte energie che servono per curare il tumore. In questo contenitore sono contenuti dei semi di iodio e radioattivo. Questi semi vengono utilizzati per il trattamento dei tumori prostatici allo stadio iniziale. In sala operatoria un'equipe composta da radioterapista, urologo, fisico-sanitario e con il paziente sotto monitoraggio costante ecografico vengono messe nella prostata tutta una serie di semi che servono a sterilizzare, quindi a uccidere, le cellule tumorali presenti nella prostata di quell'individuo. Quest'altro strumento invece serve per fare quella che viene chiamata la brachyterapia nafterlotting. Contiene una sorgente di iridio radioattivo la quale viene posizionata, dopo aver fatto dei controlli radiografici, in sede uterina oppure vaginale. Sono trattamenti abbastanza complessi, afterloading significa che all'ammalata vengono posizionati gli applicatori, vengono collegati gli applicatori alla macchina e successivamente l'operatore abbandona il bunker, viene dato il comando, la sorgente radioattiva si posiziona dentro l'applicatore, nelle sedi che sono state predeterminate e parte il trattamento radiante vero e proprio. Finito il tempo necessario per erogare la dose, automaticamente la sorgente radioattiva ritorna nella sua sede. E questo è un villaggio che nasce agli inizi del 1900, nasce come villaggio degli operai del cantiere navale qua di Pietraligure, e per dare dimora, per dare abitazione appunto agli operai del cantiere, all'inizio di qualcune palazzine risalgono proprio ancora a quell'epoca lì, poi man mano si è sviluppato nel tempo per passare a ospedale, allora dipendente dalla regione Lombardia e tuttora alla regione Liguria. Nasce come colonia elioterapica per della regione Lombardia, allora non regione perché parliamo ancora appunto degli anni in cui le regioni non c'erano ancora, e per la cura appunto delle malattie dalla tubercolosi ad altro, e sfruttando soprattutto quello che è il tempo come oggi, la stagione, il mare, il sole. E quindi molte palazzine erano dedicate proprio alla cura di queste malattie qua, ripeto la prima la TBC ma non solo quella, con forme appunto di elioterapia. Arriviamo appunto quasi ai giorni nostri, parliamo di circa 30 anni fa, quando nel 1978 c'è stata la riforma sanitaria, la legge 833, e quindi con il passaggio alle competenze della sanità alle regioni. Quindi proprio negli anni fine 70, inizio 80, soprattutto nel 1980, come data di spartiacque e tutto, c'è il passaggio di questo ospedale, che ormai a questo punto è un ospedale, al passaggio dalla regione Lombardia alla regione Liguria. Nel frattempo chiaramente questo non è più un ospedale elioterapico, ma ha sviluppato tutta una serie di specialità e discipline, le quali molte sono oggi ancora presenti. L'ospedale Santa Corona si caratterizza sostanzialmente per un'anima chirurgica, ortopedica in particolare, e riabilitativa. Questi direi la parte ortopedica traumatologica e la parte riabilitativa rappresentano davvero il cuore dell'attività. La parte riabilitativa poi ha una eccellenza che è rappresentata dall'unità spinale, che è una struttura nuovissima, molto attrezzata, che si occupa del recupero dei giovani a seguito di incidenti stradali. Normalmente parliamo di eventi traumatici, soprattutto sono maschi, ragazzi, quindi dai 20 ai 30 anni che a seguito di un incidente stradale hanno lesioni a livello della colonna vertebrale. e queste determinano delle difficoltà di ambulazione, se non addirittura situazioni peggiori che poi potrete verificare. L'USU, questa unità spinale, rappresenta una forma riabilitativa molto intensa che prende il soggetto già nel momento dell'acuzie, quindi pochi giorni dopo l'incidente, e parte con un aspetto riabilitativo. Abbiamo recentemente anche avuto la possibilità, proprio per la specializzazione, di portare la parte riabilitativa a dei livelli estremamente incoraggianti, anche, direi, insomma, come posso dire, particolarmente importanti, perché abbiamo avuto un riconoscimento per quello che riguarda le visite parolimpiche, quindi i nostri ragazzi, quelli riabilitati, sono atleti che partecipano, alcuni di questi, alle Olimpiadi, alle Parolimpiadi. E questo è un momento estremamente positivo per quello che riguarda l'apice della riabilitazione, quindi una vita sociale anche agonistica. L'unità spinale di Pietraligure nasce dieci anni fa per dare la risposta a tutta la popolazione ligure, una risposta rivolta al paziente mieloleso, specialmente post-traumatico, e in questo senso i suoi dieci anni di anzianità la pongono tra quelle di maggior tradizione in Italia come unità spinale unipolare. Quindi la regione Liguria, con una rete che si sta costruendo adesso con l'assessorato, potrà ottimizzare il percorso del giovane traumatizzato e quindi minimizzare il rischio di lesioni da pressione, di insufficienza renale, di tutte le complicanze che si hanno quando questi ragazzi non vengono trattati al meglio. Per contro, dall'altra polarità temporale, cioè quella della dimissione, si troverà il modo, grazie anche a una progettualità e a fondi che abbiamo acquisito proprio in questi mesi, di dare il massimo della risposta possibile per l'inclusione sociale. Già siamo riusciti a portare a termine negli ultimi anni dei progetti ambiziosi, come ad esempio quello per i ragazzi mielolesi, sia dorsali che cervicali, cioè i più gravi. Per questi ragazzi noi riusciamo a non far perdere l'anno scolastico, generalmente sono ragazzi del liceo che quindi qui hanno continuato la loro attività e questo è fondamentale perché riducendo il gap tra l'evento acuto che trasforma la vita di queste persone e il nuovo rientro nella società si minimizzano anche gli aspetti più pericolosi che sono quelli psicologici, sia per il ragazzo che per la famiglia. Nel vecchio ospedale le stanze erano a tre letti, erano abbastanza anguste, non c'era il bagno, mentre invece nel nuovo sono tutte stanze a due letti con dei medici moderni che permettono al paziente di muoversi e agli infermieri di muoverlo, risulta meno faticoso portare il paziente dalla sala operatoria al reparto. E quanto tecnologicamente più avanzato ci sia, sia dal punto di vista degenziale, sia dal punto di vista chirurgico vero e proprio, io sono primario chirurgo e la nostra sala operatoria è indubbiamente la più bella che c'è in Liguria e in Italia non ce ne sono tante così tecnologicamente avanzate. Noi facciamo molta chirurgia mini-invasiva e la nostra sala operatoria è stata costruita apposta per la chirurgia mini-invasiva. E questo dimostra quanto l'Albenganese sia attaccato al proprio ospedale. La Val Bormida sono circa 40.000 abitanti, dislocati in una zona che è di montagna, quindi anche poco agibile, poco rivalci, perché i nostri sono 19 comuni. Credo che il distretto abbia un ruolo sia sociale che sanitario. Per il ruolo sanitario è sempre esistito, nel senso che è facile trovare dei servizi che si interessano tra la salute del cittadino anche sul territorio. Poi c'è anche l'ospedale, ma diciamo che l'apretamente è territoriale. Il fatto di unire sociale e sanitario credo che possa dare dei grandi risultati. Perché? Perché chi non meglio dei sindaci, chi non meglio degli assessori, dei servizi sociali che conoscono le regole e quello che l'utente può essere in difficoltà, può avere delle problematiche legate. Le faccio un esempio molto semplice. Il fondo della non autosufficienza. Si è creato, ragione rigore, è un fondo che è destinato ai cittadini meno ambienti per poter risolvere i problemi di tenere a casa queste persone. Perché? Perché l'ospedalizzazione crea dei grossi problemi, non soltanto alla famiglia, non soltanto all'individuo, ma anche alla stessa cittadinanza. Nel senso che è un impegno di spesa, è un impegno economico in quel senso lì, che invece tenendo la casa con dei piccoli aiuti si riesce a superire moltissime cose. Noi avevamo un problema dell'acna a Cengio, le faccio un esempio. Quindi abbiamo tutti coloro che hanno lavorato nell'acna a Cengio e coloro che hanno lavorato nell'indotto dell'acna. Allora cos'è che facciamo? Noi cerchiamo di poter avere un collegamento con questi pazienti per poter prevenire malattie legate all'acna purtroppo e quindi monitorizzarli, annualmente vederli, facendo dei meeting, facendo anche dei controlli sulla persona per evitare delle malattie professionali che purtroppo anche gli ulti settantenni vengono fuori. Quindi già questo è un... interveniamo sia sul sociale che sul sanitario in quell'ottica lì. E questo dell'acna credo sia una delle cose più palisiane, più evidenti che ci possono essere. La mia passione è nata girando per il paese e vedevo tutti questi vasai lavorare attorno e sono stato affascinato da questo lavoro bellissimo. Da una piccola sfera di argilla nasceva un vaso di tutte le forme, sempre tutte forme diverse. Beh, Milena Milani, io ricordo bellissimo, tanto era una gran bella donna. Diciamo, quegli anni lì era veramente una gran bella donna. Poi con Milena noi ci capiamo, però capita che ci urtiamo anche, però siamo sempre di un'amicizia reciproca che ci vogliamo bene. Infatti se non sta bene lei mi chiami e mi dice chiamami e le fa piacere che io parli con lei. Mia nipote tre anni fa ha fatto un libro proprio su Milena Milani, la Simona, parlando di tutto quello che aveva fatto. Milena era un'amante dell'arte. Vivo l'arte quotidianamente, la respiro appunto nella manifattura di mio zio, le ceramiche San Giorgio. Fin da piccola andavo appunto nella manifattura, ho conosciuto importanti artisti come ad esempio Fabri, Eliseo Salino e molti altri e quindi diciamo che ho sempre questo contatto quotidiano con l'arte e con gli artisti. Cosa facciamo? Cerchiamo in effetti di diffondere l'arte non solo sul territorio nazionale, ma anche all'estero, per cui quest'anno è stato un anno molto importante. Per noi abbiamo fatto una mostra in Svezia che era interamente dedicata a Jorn, Lam e Ness Lerpa, un'altra interessante collettiva delle ceramiche San Giorgio che si è tenuta a Mondovì e ha avuto un grandissimo successo di critica e di pubblico.